All'Aquile ad Avezzano sono riprese le vaccinazioni con AstraZeneca dopo lo stop precauzionale. Per dare un segnale di fiducia, ieri sono state vaccinate 100 persone della protezione civile, nessuna rinuncia, mentre oggi sono proseguiti vaccini per insegnanti, forze dell'ordine, over 80. La ASL sta preparando, nel caso che qualcuno rinunci, una lista alternativa alla quale attingere per non sprecare dosi, sempre per le stesse categorie, ma al momento non ci sono rinunce né si accontezza del fenomeno, come spiega il direttore del Dipartimento Prevenzione della ASL, Domenico Pompei. Al momento noi non abbiamo nessun segnale di rinuncia, tant'è che ieri abbiamo somministrato 120 dosi di AstraZeneca, 60 su Avezzano e 60 sull'Aquila, oggi ne abbiamo in programma 80 su Avezzano e 70 sull'Aquila, al momento non ci sono segnalate rinunce, quindi evidentemente la cittadinanza ha preso abbastanza favorevolmente tutti gli aspetti mediatici della sospensione del farmaco. Mercoledì dovremmo iniziare con le categorie fragili, quindi sia le persone più anziane che anche quelle più giovani, da chi ha problemi di diambulazione, per intenderci, tutte le categorie che sono i dializzati, gli oncologici, i trapiantati e così via, quindi da mercoledì daremo il via ufficiale a questa categoria, per poi una volta completati gli over 80 che ancora ce ne sta una certa coda e quindi le categorie fragili, chiaramente andremo alla categoria successiva di quelli fra gli 80 e i 70 anni. Tutto questo mentre sul territorio Cagnano Amiterno esce dalla zona rossa, dove entrano però altri comuni del circondario. È tutto pronto intanto a Bazzano, nei locali che nel doposismo ospitarono il Tribunale, per aprire il secondo centro vaccinale extra ospedale dopo quello di Via Ficara, che dovrebbe essere inaugurato a metà della prossima settimana, per aumentare sempre più la capacità vaccinale. Qui questa mattina si stavano scaricando e montando arredi e attrezzature. Noi ci siamo organizzati sull'intera provincia per avere solo presso le sedi fisse, lavorando su due turni, mattina e pomeriggio. Chiaramente è anche un discorso di personale che stiamo recludando, quindi dovremo arrivare a una situazione ottimale, diciamo fra una quindicina di giorni, con la speranza che arrivano le quantità adeguate di vaccini, addirittura per somministrare 3.500 vaccini al giorno, distribuiti chiaramente su tutta la provincia.